buongiorno a tutti allora 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 dopo avervi fatto il campionato spagnolo tocca al campionato tedesco che invece mi fa godere il campionato tedesco è un campionato che mi fa godere perché segnano segnano tanto e io godo e io godo perché mi hanno detto io sono il re del gol dell'over eccetera eccetera io l'ander non lo posso vedere il calcio è fatto di gol non di 0 a 0 di dm che la gente si fa due maroni così peggio che ha lezioni di piano quindi gol anche gli 1 a 1 vanno bene basta che si vedano dei gol poi è logico se finiscono 4 a 3 le partite fa ancora più libidine comunque campionato tedesco che era il ripartito era fermo pensate pensate i tedeschi poverini sono rimasti fermi dallo scorso 12 novembre fino al 20 di gennaio pensate noi che cosa cosa sarebbe successo in italia se restavamo dal 18 dicembre è finito il mondiale fino al 20 di gennaio senza calcio un disastro noi fortunatamente abbiamo iniziato ai primi di gennaio al 3 3 4 gennaio quindi siamo rimasti due settimane però c'erano le feste eccetera eccetera quindi uno si è barca menato tedeschi un mese senza calcio senza aggiungendo il fatto che magari a qualcuno mondiale non viene fregato niente quindi sono rimasti dal 12 dall 11 12 di novembre fino al 20 di gennaio senza calcio due mesi aiuto aiuto comunque si è partiti si è ripartiti venerdì con la partita libidine tra lipsi e bayern monaco terminata 11 poi al sabato line tra francoforte ha battuto 3 a 0 lo schalke 04 risultato che ci sta tutto il bocum il bocum signori il risveglio del bocum che batte 3 a 1 lerta lerta berlino che però è lì anche lui è quest'anno è lì che lotta per la salvezza a differenza dell'union berlino che invece lotta per un posto in champions per non dire qualcos'altro che batte 3 a 1 l'offenheim il bocum batte clamorosamente anzi gioca a tennis signori gioca a tennis col friburgo 6 a 0 addirittura friburgo che sapete sta facendo un campionato da libidine però si vede che si sono sono ancora in letargo si devono risvegliare lo stoccarda pareggia 1 a 1 con il mainz il colonia a sua volta gioca a pallamulo anzi no a tennis fanno un tie break fanno un tie break il colonia il verder brema il colonia vince 7 a 1 addirittura partita scoppiettante quella tra borussia dormund e ausburg che termina 4 a 3 e concludiamo per stare in tema di libidini la vittoria del bayern leverkusen in casa del borussia monschenblabach per 3 a 2 quindi vedete campionato tedesco dà soddisfazioni fa libidine è è divertente regala gioie e in più è ancora equilibrato perché lì si appare sbloccando il bayern monaco sull'1-1 lo rimette lì vicino alle altre campionato tedesco potrebbe regalare sorpresone così come il lenz potrebbe fare lo scorzetto al paris saint germain ma ne parleremo settimana prossima perché il campionato per un cese ha fatto la pausa quindi parleremo poi del campionato inglese allora 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 classificano come dicevamo bayern monaco bloccato dall'ipsia però è lì bello felice contento con 36 punti il lipsia secondo ci ha provato però non è riuscito a battere il bayern era la sfida tra la seconda e la prima quindi resta a quattro punti di distacco l'eintracht sale a 30 ma sono in una marea a 30 punti perché c'è l'eintracht francoforte l'union berlino e il friburgo subito alle loro spalle il volsburg che tra l'altro ha giocato pure a tennis con il friburgo quindi erano lì a un punto uno dagli altri cioè c'erano quattro punti di differenza adesso il volsburg è solo un punto dal friburgo appena fuori dalla zona europa c'è il borussia dormun a 28 quindi è lì è lì e queste sette squadre sembra il campionato italiano con una piccola differenza il napoli ha fatto il vuoto bayern monaco no però ci sono sette squadre che si giocano l'europa in otto punti perché il dormun ha 28 punti il bosburg 29 che è in zona conference il friburgo l'union berlino e l'eintracht sono a 30 il lipsia 32 quindi sei squadre in quattro punti e poi c'è il bayern monaco che ha un più quattro sul sul lipsia e poi a scendere sei punti sette punti otto punti sulle altre bayern che naturalmente appare favoritissimo è per la vittoria finale dello scudetto però non è più 13 ecco per intenso non era già chiuso ciao ciao vabbè ho capito ciao ci vediamo l'anno prossimo poi ci sono le squadre che io considero quelle del limbo che non hanno grandi possibilità di arrivare in zona europa però possono farci un pensierino se le altre rallentano e sono discretamente a distanza dalla zona pericolo che sono il borussia monsenblabach a 22 il leverkusen e il colonia e anche il berderbrema a 21 direi anche il mainz a 20 e poi l'offenheim a 19 in zona pericolo troviamo lo stoccarda e il bocum a 16 l'ausburg che qualora il campionato finisse adesso farà lo spaverebbe lo spareggio con la terza classificata della serie b tedesca e poi a 14 l'erta berlino e a 9 lo schalke 04 che però avendo battuto il bocum che ha battuto scusate un attimo per vedere una cosa che ha battuto 3 a 1 l'erta berlino quindi non c'entra nulla era uno scontro diretto quindi vittoria del bocum che sorpassa l'erta che portandosi a più 2 sull'erta berlino che in questo momento è quando sei disperato no disperato no però a 14 punti nulla è perduto è a un punto dall'ausburg ragazzi miei giocarsi lo spareggio con la terza di serie b non dico che sei salvo perché te la devi giocare però almeno hai la chance di giocartela e quindi è solo un punto dall'ausburg l'erta e comunque ha due punti da bocum e stoccarda l'offenheim per ora è tranquillo a più 4 più 4 barra 5 sulla zona pericolo perché anche per lui qualora l'ausburg dovesse surpassarlo dovrebbe giocare poi lo spareggio con la terza della serie b tedesca quindi capite che poi capita che la squadra della serie b tedesca riesca a battere quella della della buddese non è detto però diciamo che è il 60 per cento in più di 60 per cento di salvarti e il 40 di andare nella serie inferiore perché comunque affronti una squadra che sulla carta dovrebbe esserti teoricamente leggermente inferiore comunque ragazzoli campionato tedesco ancora tutto in divenire la lotta per la salvezza parte il povero schalke 04 a 9 che sembra come l'elce abbastanza condannato a tornare in serie b le altre se la giocano e anche lo scudetto che vede naturalmente favoritissimo il bayern monaco non è ancora in tasca al bayern come sembrerebbe nel campionato italiano con napoli per però c'è una c'è proprio questa similitudine con queste sette squadre che si giocano l'europa quelle di mezzo che sono lì a bu che facciamo che facciamo vediamo cosa fanno quelle sopra cerchiamo di mantenerci a distanza da quelle sotto purtroppo il loro campionato è questo d'altronde solo sette vanno in europa non è che possono essere 200 e quindi ci sono sempre quelle sette squadre che giocano per la per l'europa 7 8 squadre che sono lì a fare numero e 56 squadre che si giocano la salvezza campionati purtroppo sono solo così spiace dirlo andiamo a vedere però al prossimo turno se regala qualche sfida interessante allora intanto c'è un turno infrasettimanale che si sta giocando non vi dico i risultati vi dico solo le partite non me non lo sapevo non ho guardato sinceramente era un attimino incasinato comunque lo schalke 04 devo dire che ha affrontato l'ipsia ieri il bayern monaco attenzione bayern monaco colonia hoffenheim stoccarda ertha berlino volsburg e oggi si giocherà mainz borussia dormund ausburg borussia monschenblabach leverkusen bocum werder brema union berlino e friburgo eintracht tra ieri e oggi si sono giocate queste partite ieri si sono giocate quattro partite oggi se ne giocano altre cinque e purtroppo non sono stato a guardare e d'altronde tedeschi sono stati fermi un mese adesso devono recuperare quindi vedremo cosa combineranno io l'altro giorno mi sono visto un po di partite del campionato tedesco devo dire che mi sono anche abbastanza divertito mi sono anche girate le scatole perché mi ero giocato le cinque partite del pomeriggio e non quella della sera quella che è terminata con un punteggio anche abbastanza clamoroso che era 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 non era luglio berlino no dove era luglio berlino e va bene fa niente era quella del sabato sera che è terminata con un punteggio libidine e lo sveglione fa no non la gioco perché non vorrei che mi fanno il solito scherzetto perché di solito gioco il mio over 1 e mezzo su tutte e cinque le partite del pomeriggio poi gioco qua anche quella della sera e quella della sera finisce una zero del sabato e quindi ti girano i testi ho detto non la gioco solo è finita con un punteggio abnorme comunque ragasoli niente ci sono queste partitucole interessanti ma non ci sono grossi scontri diretti vabbè friburgo eintracht ci potrebbe stare verder bremo union berlino interessante per il resto però è c'è già la sorpresa ne parleremo magari della giornata di venerdì quando o giovedì 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 domani domani avremo modo di parlare anche di questa giornata del campionato tedesco molto interessante con subito la sorpresa vedremo poi oggi pomeriggio cosa succederà oggi pomeriggio 18 e 30 poi alla sera alle 20 e 30 spero che sky vi faccia vedere almeno una delle partite stasera così almeno mi rilasso e intanto vi saluto vi ringrazio il campionato tedesco si fa interessante dopo questo questo risultatino di cui parleremo domani il campionato tedesco potrebbe farsi ancora più interessante ciao